Musica Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Non me l'avevi detto La volta scorsa abbiamo parlato di musica e questa settimana prendiamo un altro tema, il tema la scuola Quindi diventiamo un po' più seri Allora, in occasione di questo tema io vorrei innanzitutto presentare gli ospiti di questa serata Allora, un ospite l'avete già conosciuto settimana scorsa è il dottor Moscato, buonasera dottore Salve Psicologo, mediatore e cancellor del studio di psicologia Itacanensole E poi abbiamo per voi Raffaele Moretto, buonasera Buonasera, buonasera Dirigente scolastico in pensione che attualmente è coordinatore del corpo docenti di sostegno della scuola Cotolengo di Torino La scuola, che cosa ti ricordi della scuola? Un qualcosa legato alla scuola Ma allora, c'è un aneddoto in realtà molto simpatico, io spero che i miei ex compagni delle elementari non mi stiano seguendo E quindi niente, in quarta elementare ci siamo inventati durante ogni intervallo per una settimana una sorta di mercatino dove non vendavamo praticamente nulla Se non le punte dei pastelli rotte E quando le maestre ci hanno scoperto, perché noi chiedevamo tipo 200, 500 lire, 1000 lire per queste cose Addirittura Bambini più piccoli, sì Quando ci hanno scoperto ci hanno fatto ridare tutti i soldi Era un'associazione delinquere insomma Praticamente, sì Capito Che cos'è per lei la scuola? Perché appunto ultimamente se ne sentono tantissime sulla scuola Ci sono tante critiche, come abbiamo sentito, molti invece criticano i genitori Quindi insomma vorrei iniziare con una domanda un po' generale Ma voglio partire anch'io da un aneddoto Nel senso che quando avevo sei anni e dovevo andare a scuola E mi parlavano della scuola in un certo modo Per cui prima di andare scappai di casa E mia madre non sapeva come fare per recuperarmi Fin quando un amichetto raccontò a mia madre dove di norma io andavo quando mi nascondevo Per nascondersi E lo racconto anche agli studenti L'ho raccontato anche agli studenti Mia madre mi prese, mi portò a scuola E da quel momento, da quando avevo sei anni Adesso ne ho qualcuno più di sessanta Non sono più uscito E ho scoperto che ancora oggi ha un ruolo fondamentale Che è quello di far uscire le persone Diremo un po' dall'ignoranza Ma uscire da quello stato di sottomissione, di ignoranza Per portarlo in qualche modo alla conoscenza Perché più si conosce, più si è liberi Più si è capaci di diventare cittadini E persone capaci di vivere La legalità di vivere insieme con gli altri C'è un altro problema ancora Lei ha introdotto tutta una serie di temi Che sono molto interessanti Speriamo di riuscire ad affrontarli tutti quanti Quindi il tema per esempio del finanziamento Alle scuole eccetera Però un altro tema che mi sembra che lei abbia In qualche modo introdotto E' per esempio anche la strumentalizzazione Mi sembra che quello che è venuto fuori Che nel corso del tempo La scuola sia anche stato oggetto di strumentalizzazione Sì In effetti qualcuno Io non so chi di preciso Ma in effetti la scuola è stata vista anche Perché se noi pensiamo all'inserimento dei docenti stessi All'interno della scuola Se voi pensate C'è stata una legge all'inizio degli anni 70 La 417 Che ha immesso in ruolo tantissimi insegnanti senza concorso C'è stata poi la famosa legge 463 Mi pare del 77-78 Che ne ha introdotti altri C'è stata poi nel 1982 La famosa legge 270 Che ne ha introdotti altri Cioè perché in effetti la scuola era in espansione E prendeva insegnanti Purché avessero un titolo Certo Abbiamo parlato di medie Elementari, superiori Ecco Quindi è venuto fuori un po' Diciamo Il discorso che L'ambito delle medie Forse è quello un po' più problematico Abbiamo parlato di insegnanti Adesso ci spostiamo un po' La figura dello studente Quindi hai avuto Spesso ci si perde di vista Che alla fine I utenti sono Sono anche loro I ragazzi I bambini che vanno a scuola Come sappiamo Le medie È un ciclo scolastico molto difficile per tutti Ricordo anche le mie Non sono state Anche le mie Esaltanti Ma proprio perché I ragazzi che affrontano le medie Affrontano un periodo Della loro vita Molto complicato Al di là di come è organizzata La scuola o meno Lui è sempre stato Probabilmente Per i ragazzi Lo sarà sempre Ma è anche un periodo Di crescita personale Perché è un periodo Di crescita personale Molto difficile Ed effettivamente Il lavoro che hanno in mano Gli insegnanti delle scuole medie È molto complicato È molto complesso In realtà Concordo con quello che diceva lui Quando non faceva un quadro della scuola così negativo Cioè effettivamente Come si diceva nell'introduzione La scuola sembra Il luogo più brutto Pessimo E mal organizzato d'Italia In realtà Paradossalmente Se noi pensiamo Al fenomeno della fuga dei cervelli Che cosa ci dice in realtà? Che la scuola forma E forma anche bene E dopo Che non ci sono gli strumenti Per andare avanti Andando ad analizzare anche Come è cambiata la società No? Come è cambiata in fretta Quali sono stati gli sviluppi Eccetera La fascia di età Dei ragazzini Delle medie È una fascia che in qualche modo Ha avuto maggiori cambiamenti Rispetto ad altre fasci di età E quindi è per questo anche Che si trova ad essere in una situazione più difficile Rispetto alle altre Oppure no? Ma in parte sì Nel senso che effettivamente La storia ci dice che Che le cose sono cambiate molto Anche perché molti anni fa Scusa se ti ho interrotto Però le scuole medie Non erano neanche accessibili Cioè io vedo i miei nonni È difficile che abbiano fatto Obbligatoria Sì In realtà pochi decenni fa E quindi questo già significa molto È cambiata anche la relazione Tra le famiglie e la scuola Quel confine relazionale Che c'era una volta Tra l'insegnante e il genitore È cambiato moltissimo Negli anni Non sempre in modo positivo E questo effettivamente Forse è una delle grosse lamentele Degli insegnanti di oggi Abbiamo prima parlato di fuga di cervelli E invece in questa seconda parte del servizio Si è parlato un po' di Io avevo fatto una domanda al professor Italo Di decadenza Di diciamo peggioramento della qualità della scuola Anche rispetto ad altre realtà europee Visto che anche lei Insomma l'ha vissuta dall'interno Anche proprio nell'organizzazione Poi degli istituti È davvero così Oppure sono tutte notizie Che leggiamo sui giornali Ma in realtà Insomma non sono molto vere Ma condivido in parte Quello quasi totalmente Quello che diceva il professor Italo Cioè non si può dire Che tutto va male Tutto va bene La scuola È una realtà in cammino È una realtà che si costruisce Man mano che si va avanti E quindi giustamente noi Se ci mettiamo del buono Del buono troviamo Altrimenti Diciamo Se mettiamo nulla Nulla troviamo Diciamo che ci confrontiamo È una realtà di lavoro diversa Rispetto agli altri lavori Perché noi quando entriamo in classe Lo diceva il professor Italo Entriamo nel mondo Nella fantasia dei bimbi Nel mondo degli adolescenti Dei preadolescenti Degli adolescenti Dei giovani Che Che ci fanno rimanere giovani Non me l'avevi detto Io per esempio Alla mia dolce età Più o meno Ho gli anni di Italo E diciamo Mi sento Ho scoperto Non sapevo Di rimanere giovane Cioè in effetti Io mi sento giovane Non avverto Di essere invecchiato Grazie al fatto Che di dolori Ne ho pochi Comincio ad averli Ma ne ho pochi Però in effetti Non ho vissuto L'invecchiamento Intellettuale Perché mi sono Costantemente Confrontato Con Con i giovani Allora Il problema Della qualità Con i metodi Di insegnamento Bisogna sempre Sare Esatto Mantenersi All'avanguardia Sia con le modalità Di insegnamento Soprattutto A mio avviso Con gli strumenti Perché io Quando insegnavo Insegnavo lettere Non mi sono mai Vergognato di dire Che ero un insegnante Tradizionale Ma che facevo lezione In un certo modo E avevo poi Il riscontro positivo Da parte Sia dei ragazzi Dei genitori E il riscontro Della riuscita successiva Nei segmenti di scuola Quando era Alla scuola media Poi Nella scuola superiore Dottor Moretto Mi sembra che Dall'intervista Insomma Sia venuto fuori Diciamo Un giudizio più negativo Rispetto a quelli Che abbiamo Trattato prima Dipende dal punto di vista Allora Quello che dice Lo studente È vero Chi dà le basi Sono La scuola Elementare La scuola media Peccato però Che manca un passaggio Il ragazzo Ha detto Io sono andato Al liceo Poi sono andato All'avogadro Quindi ha abbandonato Il liceo Ed è andato All'avogadro Che cosa è mancato Alla scuola media Perché è lì Che si gioca Si fanno i giochi L'orientamento Cioè Bisogna Imparare A fare orientamento Noi vi salutiamo E ringraziamo Gli ospiti di questa sera Ancora una volta Il dottor Raffaele Moretto E Marco Moscato Vi diamo appuntamento Alla prossima settimana Assolutamente Non svegliamo ancora il tema Ma ci sarà sicuramente Sui social network Durante la settimana Qualche anticipazione Oltretutto Anche in questo caso Ripeto sempre Insomma Forse sono un po' noiosa Però continuate a scriverci A commentare Perché come vedete Insomma Quello che ci scrivete È anche spunto poi Insomma Dei dibattiti Di quello di cui parliamo E poi Un piccolo ringraziamento Personale Ai miei genitori E i genitori di Andrea Che ci hanno fornito Parte della scenografia Di questa sera Con tutta una serie Di oggettini Che appunto Venivano utilizzati Nella scuola Dei loro tempi Noi allora Vi salutiamo E ci vediamo Giovedì prossimo Sempre alle 20.30 Su Show TV Dico non me l'avevi detto Arrivederci Arrivederci a tutti Grazie 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 a tutti